Mi dicono dalla regia che c'è il bomber dei bomber, il nostro Adriano dal Brasile. Ciao, tutto bene? Ciao! Grande fenomeno! Grazie, è piacere! Che bello vederti! Qui è storto, eh? Grazie. Mi sa che devi girare la rotazione, che sei storto! Sì! Aspetta, così! Bravo! Come stai, grande Adriano, l'imperatore di Milano? Come stai? Bene, bene, bene. Ma sei a Rio, no? Sì, sono a Rio, sono a casa. Ma tu sei fisso a Rio, stai sempre a Rio? Vivi là? Sì, sono... Io delle volte vado a San Paolo per lavoro, però io abito qua a Rio. Grande Adri! Che bello vederti! Ci siamo visti l'ultima volta a casa tua, durante il Mondiale, ti ricordi? Mondiale, sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Che siamo venuti, in 5 e 6 siamo venuti. Sì, sì, è stato figo, Viera, Cannavaro. Che c'era anche Materazzi? No? Sì, c'era Materazzi, è vero. C'era anche Marco? Siamo venuti a casa tua a trovarti. Sì, è vero. E te come stai? Io sto bene, Adri, sto bene, sto bene. C'ho due bimbe, c'ho due bimbe piccole. Io c'ho tre, io c'ho tre. Tu ce n'hai tre? Sì, ce n'ho tre, due femmine e un massimo. Mamma mia, quanti anni hanno? 17, 16 e 7. Sono grandi, sono. Sì, grandissimo. Mamma mia, le mie sono piccoline. Le mie hanno la prima 5 anni e l'altra Isabel 3 anni e mezzo. Sono piccoline. Credimi, Adri, la cosa più bella che ho fatto nella mia vita, mi credi? Sì, è vero, anche io. Sono delle cose che non c'è paragone, guarda, davvero. No, un amore folle da pazzi, un amore folle da pazzi. Poi io l'ho fatti a 45 anni, non lo so, forse ero più maturo, non lo so che cazzo ero. Non lo so, ma ti dico, Adri, sono pazzo di loro, innamorato e perso. È vero, è vero. E anche per noi, no? Perché è una cosa veramente, è amore proprio, amore, amore, amore. Sì, ma lo capisci solo quando ti danno la bimba in braccio? Quando nasce, che te la danno in braccio, allora capisci che cazzo, cosa ha combinato uno. Perché... È vero, è vero. Io non riuscivo, anche quando la Costanza era incinta, gli toccavo la pancia, sai, si muove, ma non capivo, no? Ero contento e tutto, no? Ero proprio... Però lo capisci quando ti danno... Anche io prima non capivo bene, quella prima foto che ho preso in mano, ho detto, cazzo, è vero adesso. È una roba incredibile, incredibile l'amore che è. Allora, dimmi un po', ma tu, in Brasile, vuoi fare l'allenatore, vuoi fare il direttore? Hai qualche progetto? Qualche progetto nuovo o no? No, 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 io per Caccio no, guarda, io non lo so, cioè, non c'è nulla in mente per lavorare con Caccio, veramente non lo so. Però sto facendo dei lavori diversi, con la Betpix, 365, 365, che ho un contratto ancora due anni. Ok. Quindi per Caccio no, per Caccio no. Io pensavo, perché tu hai giocato nel Flamengo, no? Che lì a Rio, pensavo che, parlando con me stesso, dicevo, ci sta che Adri va al Flamengo e dà una mano in società o fa l'allenatore, dei ragazzi, un qualcosa, pensavo così. Invece no. No, 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 no. Dimmi un po', com'è? Non ho ancora questo pensiero di tornare così a essere, no, 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 io voglio vivere un po', un po' fuori del Caccio. Dimmi un po', ma descrivimi cosa vuol dire giocare per il Flamengo, perché comunque mi sa che è la squadra che ha più tifosi al mondo, no? Sì, 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 sì. Giocare al Manacanà, cosa vuol dire? C'è una roba impressionante, perché è una squadra che i tifosi ci tengono moltissimo, perché qua, come lo sai, in Brasile, il Flamengo ci sono dei tifosi più grandi, quindi c'è la responsabilità grandissima con il club e anche per i tifosi, quindi è una roba emozionante. Caccio perché vedi il Maracanà è una roba sempre strapiena, tutti a ballare, a cantare, è una roba da pelle d'oca. È uguale giocare a San Siro, guarda, è uguale, cioè è una cosa emozionante. Tu lo sai, quando ho giocato lì a San Siro, a San Siro tantissimi anni. Tu con il Flamengo hai vinto lo Scudetto, no? Sì, 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 due. Ah, tanta roba, eh. Lì si festeggia, eh? Lì si festeggia per un anno di fila. Sì, anche io lo sai che mi piace festeggiare, quindi. Lì si sparisce un mese, si va in giro per Rio. Oh, mamma mia, è vero. Comunque no, quando hai vinto ho visto i gol che avevi fatto, lì stavi bene, bene ancora, eh? Sì, sì, sì. Lì stavi bene anche a livello di peso, perché tu sei come me, tu intendi ingrassare, quindi tu bevi, mangi, brioche, patatine, mangi di tutto. Però il Flamengo, figa, io ti vedevo, stavi bene, bene te, tiravi delle razzate, perché la gente, la gente non ha idea quanto tirava forte in porta Adriano, ragazzi. Ma Adriano tirava delle cannonate che il pallone diventava ovale. Tu ti ricordi il gol che hai fatto col Chievo, che tu me l'hai data? Io l'ho fermata e tu hai tirato una sassata. Sì, è vero. Abbiamo fatto due e poi l'ho tirato. Sì, due e due abbiamo fatto. Io non ho fatto il tempo di girarmi, che la palla era già dentro la rete, il portiere era fermo, non ha nemmeno visto il pallone entrare, ma credetemi, ho sentito una roba. E dici, ma chi cazzo è? Ha tirato di collo, che lui c'ha un piede così, un collo così, ha tirato. Ti ricordi Adri? Una fiammata di collo che nessuno, allo stadio, la gente non capiva cosa era successo, perché non ha visto niente. Ti ricordi? È vero, è vero, è vero. Poi hai fatto il gol con l'Udinese, che ero accanto a te, che ne drible uno, poi ne drible due, poi ne drible tre. Poi dico, ora me la dà, e ne drible cinque, e poi me la dà, ne drible sei, ne drible sette. Hai fatto quello da solo, ti ricordi? Sì, sì, che sono, ho preso in campo nostro, non è vero? Sì, sì, hai fatto 60 metri da solo. È vero. Hai dato anche un po' di fortuna, guarda. Io ti rullavo, Adri, se vuoi sono qua, lui, no, vaffanculo, vieni, ci penso io. Bam, 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 hai dribleato sette giocatori. È stato bello lì. No, ma ragazzi, ma poi, quando fai quei gol lì a San Siro, tu sai, Adri, ma San Siro, ci sono 80.000 che impazziscono, quella partita là, quando hai fatto quel gol là, che hai driblato tutti, sembravi Maradona, e la gente è pazzita, la gente è pazzita. La gente è tutta addosso, però il gol più bello, credimi, la prima amichevole che fai. Con Real Madrid. Ma io con Real Madrid? Ma nessuno ha capito che la palla era già dentro la rete. Ma hai tirato una fucilata? E io dicevo, ma che cazzo c'è, ha le bombe nei piedi. Ma una roba... Ma ti ricordi? È stato la mia prima partita lì, sono appena arrivato. Abbiamo vinto 2-1, hai fatto te il 2-1. È vero. Ma una roba... Io dicevo, perché Seedorf si mette sulla palla e ti chiama, vero? È vero. Ti ha chiamato Clarence. Perché negli allenamenti, io stavo facendo con lui, no? E lui ha visto che cacciavano forte. Quindi, quando è arrivato nella partita, mi ha chiamato. Magari era Materaschi che vorreva battere, non lo so. Sì, sì, sì. E lui mi ha detto, no, che batte Adriano? Io sono arrivato lì zitto, guarda, io qua non mi metto. Allora, perché Clarence ha personalità, no? Personalità alta, no, Clarence? Quindi, io sono lì, vedo Clarence che, perché quando c'è una punizione, arriva Materaschi e vuole battere tutte le punizioni, Marco. Ok? Poi arriva Clarence e poi vedo Clarence che dice a lui, no, no, tira tu Adri. E io dico dentro di me, ma Clarence, ma che cazzo sta inventando? Allora, no? Perché io non ti avevo visto che tiravi così forte durante gli elementi. Allora dico, ma cosa sta cominciando Clarence questa volta qua? È arrivato lui, ma credimi, ha tirato una fiammata che, sai che se tu prendi la barriera, mandi all'ospedale 1? Hai tirato una fiammata, ho detto, ma questo, dove arriva? Ma questo Adriano, ha tirato la fiammata, ma la prima partita? No, ma la roba, roba spettacolare, spettacolare. E lì è nato Adriano l'imperatore, no? Sì. Ma tu anche, no, poi lui ha fatto il primo gol, dicevo, che giocammo io lui a Chievo, gli ho fatto, mi ha dato la palla, l'ho fermata, è arrivato a 300 all'ora. No, ma hai fatto dei gol, e i gol, di roba da... Ma tu comunque c'è una cannonata, Adri, che non ho mai visto io, in 30 anni, uno che tira forte come te, per un'attacca, non esistono. Forse Battistuta ha 25 anni, ma secondo me non tirava forte come te, Adri. Perché io poi, quando eri... Roberto Carlos, anche. Chi? Roberto Carlos. Ma tu dici, tira più forte di te? Secondo me, sì. Lo sai, no? Chi ha fatto le Real Madrid con Ronaldo. Sì, no, lo so, però lui sa, lui tira tutti i mezzi, i giri. A te, io non ho mai visto una persona... Io dicevo, ma non ti fa male il piede? Ho visto delle robe... No, ma durante gli elementi, ragazzi, ma... Tirava delle fucilate, ma i portieri li spaccava in due. Non riuscivo proprio... Ma non potevo capire uno di vent'anni che tirava così forte. Dimmi un po', ti faccio un po' di domande sull'Inter. Tu la segui un po', l'Inter? Sì, delle volte sì. Non sempre, però... Lo vedo. Ma ora a Rio fa caldo? Troppo caldo. Troppo, con 40 gradi. Così vai a Copacabana... Vai al mare... Sono andato a una spiaggia. Dov'è? Che spiaggia vai tu? Qua è la Barra. Ah, la Barra. Che lì è un po' fuori, vero? Sì. Brava, anche io sono stato là un po' di volte. Sì, dove abito io, ho sempre abitato qua. Bravo, bravo. Che poi vai sempre dritto, arrivi a Copacabana, Leblon, quelle zone là, vero? Tutto, tutto, sì, sì. Ma dimmi un po', ma... Giochi a Futvoli o no? No, no, no. A Caccio o con dei miei solo. Ah, ok. Dimmi un po', dimenti un po' dell'Inter. Come ti sembra l'Inter quest'anno? Guarda, io ho guardato poco, poco le partite, capito? Però, per lo che ho visto, c'è una squadra... C'è un gruppo coerente. Sono facendo delle belle partite, quindi spero che possano vincere tantissimo campionato. Sono primi in campionato, a due punti dalla Juve, e quando riprendi il campionato, ora c'è la sosta della Nazionale, quando riprendi il campionato ci sarà il derby d'Italia, Juve-Inter. Juve-Inter. Ma come... hai visto un po' giocare Turam o no? Qualche partita l'hai vista? No, l'ho vista ancora. Ok, ti devo dire una cosa. Turam, siccome l'anno scorso c'era Lukaku, no? Che Lukaku è forte. Lukaku è forte, no? Sì, sì. È un gran centravanti, no? È andato via lui. Allora io dicevo dentro di me, vediamo chi prendono, perché comunque devono prendere un centravanti importante, no? Perché l'Inter deve cercare di vincere Scudetto, Champions, Coppa Italia, insomma, tutto, no? Prendono Turam e ho detto, vuoi andare a vederlo allo stadio? Perché dallo stadio si vede sempre bene, no? Si vede meglio. Allora dico, vado allo stadio a vederlo. Cazzo, Adri, sono andato allo stadio? Turam è bravo, bravo, bravo. È bravo a giocare con i compagni, ok? Quindi quando arriva la palla gioco con tutti quanti e fa gol. E fa gol, quindi ti dico... L'Inter deve tenere sempre uno così, capito? Come c'era te, c'era io, perché se no, secondo me la squadra non va. Sì, centravanti ci vuole, loro davvero un centravanti grosso. E ti dico, Adri, è forte, forte, gioca con la squadra, gioca bene, fa gol, va sempre in profondità, quindi, come facciamo noi, quindi spacca la difesa. È vero. E ti dico, Adri, cazzo, ma con Lautaro si gioca, si trova bene, bene, bene. Incredibile, guarda, credimi, si trovano, si giocano bene. E ti dico, Lautaro, dall'anno scorso, Lautaro, è uno dei più forti d'Europa, Adri, eh? Sì? Sì? E' uno dei più forti d'Europa. Io lo so che lui gioca benissimo, quello lo so. Ti dico, fa la differenza, Adri, fa la differenza. Eh, lui è molto intelligente anche, eh? Sì, è bravo, bravo. Credimi, in questi due anni ha fatto un salto di qualità incredibile, no? E' forte, forte, cazzo. Perché lui è ancora giovane, no? C'è 26 anni, c'è. 26 anni. Giusto, ragazzi, 26 anni, Lautaro, no? Cazzo, ma, guarda, l'Inter c'è una squadra incredibile, incredibile, veramente forte, forte. Loro davanti sono bravi. Speriamo bene. Sì, speriamo bene. Hanno preso anche Arnautovic e Sanchez come terza e quarta punta, quindi due attaccanti forti. E ti volevo chiedere una domanda, quando tu giocavi all'Inter, con Ibero come ti sei trovato? No, io con Ibero bene, perché lui mi capiva bene anche come giocare. Lui c'è la sua personalità, l'ho tutto lo sanno, no? E c'è personalità lui, eh? Sì, lui c'è la personalità diversa da tutti gli altri giocatori. Però come lui è sempre si è comportato bene, abbiamo sempre, parliamo sempre, prima della partita, parliamo cosa possiamo fare, come movimento, no? Lui mi sa che ha fatto un'intervista e ha detto che tu sei uno dei giocatori più forti con cui ha giocato. Sì, 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 l'ho detto. Una volta che io stavo facendo un'intervista qua in Brasile, lui ha mandato un messaggio per me, e quindi sono stato felice per quello che lui ha detto. No, ma è bravo, bravo. Grandissimo i giocatori, quindi per noi è una cosa satisfattoria. Allora, ti faccio l'ultima domanda, perché hai già passato 25 minuti, non ti voglio tenere troppo. Ti faccio... Tu, Abba Martins, l'hai più sentito? No, mai più. No. Non si pari più, mai più. Ora ti faccio... Ho parlato una volta con... Con... Mio Dio, con... Dacu. Ah, ok. Il posto. Che lui mi ha chiesto di fare una cosa per lui, quindi abbiamo sentito. Ora ti faccio mandare il numero da Abba, ti lo faccio mandare, perché è simpatico Abba. Sempre in giro per il mondo. Fa un casino, fa ragazzi. Ma non l'hai smesso, no? Eh? Sai che non lo so? Penso di sì. Perché non ho mai sentito parlare. Non lo so. Perché ogni tanto lo vedo che si allena, poi non si allena, poi in giro, poi in Nigeria, poi in Cina. Non riesco a capire se gioca o non gioca, non ho idea. Non riesco a capirlo. Ti voglio fare una domanda, l'ultima domanda e poi ti lascio andare. Ma se viene Ancelotti ad allenare il Brasile per il Mondiale in America, no? Dicono il suo nome. Cosa pensi? Cioè, Ancelotti può essere allenatore giusto? Il Brasile ha una squadra forte per vincere il Mondiale o no? Guarda, qua, il Brasile sta, adesso non sta facendo troppo bene, capito? Perché cambiano sempre dei giocatori, quindi non riesce a tenere un gioco fixo. Una maniera di giocare sempre e spesso. Guarda, io lo vedo come un bello allenatore per la nazionale, il Brasile, perché noi brasiliani non c'è quella educazione, diciamo così, di giocare tatticamente. E quindi, se lui veramente viene in Brasile, in nazionale, sicuramente farà benissimo, perché noi in Brasile non c'è abito di giocare così tatticamente, no? Quindi, secondo me, quello è una cosa che avevamo bisogno già da tanti tempi, quindi sarebbe bellissimo vedere lui come farà i nazionali. Come farà il Brasile senza Neymar ora, che deve stare fermo un anno? Eh, quello è un casino, perché senza di lui è quasi il 50% della nazionale, quindi... Però ci sono giocatori che possono fare, non tutto quello che Neymar può fare, no? Però il nazionale deve voler giocare, quindi, perché da fuori si vede che magari manca qualcosa, capito? Sì, sì. Ma c'è qualche attaccante giovane e forte del Brasile? Che può giocare il numero 9? Cioè, secondo me, lo so che devo parlare così, che non va bene, però per me Gabigol sarebbe buono lì, nella nazionale. Perché lui è già un po' esperiente, un po' più, diciamo così, un po' più vecchio, no? Non vecchio, vecchio, però un po' più esperiente in confronto agli altri attaccanti. Quindi, secondo me, lui può fare bellissimo ancora il nazionale. Ok, comunque, per il mondiale in America Neymar dovrebbe essere a posto. Se c'è Neymar, il Brasile va per vincerlo, no? Sì, secondo me sì. Perché comunque con Neymar e Vinicius, ragazzi, è incredibile. Speriamo tantissimo da lui. Mamma mia, ragazzi, ma uno contro uno ti distrugge, è immarcabile. Senza dubbio. Cazzo, ma io, ma è una roba, ogni partita, prende palla, comincia a puntare tutti lui. Lui punta tutti, fa 80 volte la fascia, sempre con la palla puntare tutti quanti. Ma è incredibile questo Vinicius. Ed è devastante. È bello. E lui sta bene ancora, quindi speriamo che faccia benissimo ancora per le nostre nazionali. Speriamo, dai. No, va bene, dai. Adri, io ti ringrazio. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te per avere l'opportunità di giocare con te. Ma va, tu riferis. Ho visto, mi sono emozionato. Ci siamo divertiti, Adri. Ci siamo divertiti, dai. Ti ringrazio tantissimo. Ringrazio anche la tua manager che ci ha messo in contatto con te. Ti mando un grande abbraccio. Comunque rimaniamo in contatto, ok? Ok, va bene. Va bene, Adri, come io. Ti voglio bene e ci sentiamo presto. Un bacione. Ciao, grazie, Adri. Ciao, ciao.